salva gente allora è momento di pagelle come si sono comportati questa volta contro il bologna i giocatori scesi in campo lo andiamo a scoprire subito prima però come sempre solita tiritela iscrivetevi al canale che non vi costa niente cliccate anche la campanellina per rimanere aggiornati sui contenuti calcistici ma anche extra calcistici del canale e alla fine dei video se vi andrà mettete un like che a me fa piacere riceverlo andiamo subito senza perder tempo alle pagelle allora abbiamo reina reina sei e mezzo allora prima occasione del bologna tiro e gol fortunatamente annullato per comunque il fallo secondo me c'era e il gol andava annullato però reina si distende non benissimo e scende non troppo velocemente a quel punto mi è venuto in mente quando sempre più o meno si diceva che i portieri arrivati ai 34 35 anni avevano due problemi di fondo la vista che calava iniziava a calare in modo abbastanza importante per un portiere professionista e il tempo di scendere di gettarsi a terra era molto più lento rispetto a quando si arriva ai 30 anni che comunque ha un tempo di reazione molto più veloce lì ho visto tutte e due queste fasi ovvero lento a scendere e probabilmente non ha visto neanche bene il tiro perché con tutta quella distanza insomma ci ha messo molto a reagire al tiro fortunatamente però nell'arco la partita invece forse più che lentezza forse più che cosa era perché era diciamo dopo tanto tempo una partita da titolare anche dai più esperti forse un po' di emozione quindi nel rientrare in campo da titolare perché poi si è ripreso alla grande ha fatto due partite due parate importanti dove si è disteso benissimo ed è stato anche abbastanza veloce a scendere giù a terra nel distendersi quindi diciamo da ha dato quella sicurezza che stracoscia in tutte queste partite iniziali non è riuscito a dare e stracoscia parlo del campionato perché poi in champions ci ha fatto meglio però in campionato stracoscia come avete visto altre pagelle mai era arrivato sulla sufficienza invece reina subito alla prima un sei e mezzo meritato vedremo poi se si confermerà su queste su questi voti o magari poter può far meglio o far peggio patrick e acerbi sei e mezzo li accumulo perché tutte e due con qua hanno giocato bene in area però c'è stato anche momenti di confusione e di panico questo un po in generale la confusione ha preso la lazio nella partita col bologna però diciamo loro hanno comunque mantenuto un ordine un ordine che odd l'ha seguito fino a un certo punto poi si è perso in un paio d'occasioni in più rispetto ad acerbi e a patrick infatti odd prende solo sei anche la munizione viene da un intervento non felicissimo e dove si sta facendo superare per un contrasto non appunto non deciso e quindi ha fatto bene a farsi ammunire però insomma questo mezzo punto lo va a perdere per questo motivo maurisic e leiva maurisic e leiva 5 allora durante il video non sapevo il perché di quel cambio così ormai a ridosso della fine del primo tempo a quanto pare c'è stato i due non stavano bene e hanno fatto un sacrificio richiesto dall'allenatore di scendere in campo e gli ha tolti quando proprio non ce la facevano più quindi neanche neanche ad arrivare alla fine del primo tempo però quello che hanno fatto in campo si è visto il loro non star bene perché rispetto alla partita di champions soprattutto leiva sono calati moltissimo e non hanno dato nessun contributo non sufficiente quindi entrambi 5 vengono sostituiti da lazari ed escalante lazari per me comunque 5 e mezzo ci ha messo corsa però è stato anche lui vittima di questa confusione un po' generale non ha mai fatto discese importanti si è fatto fermare più di una volta insomma il solito lazari col suo contributo questa volta sul lato destro non si è visto e non è stato sufficiente e scalante invece per quello che è fatto mentre è stato in campo è stato sufficiente ha fatto il suo lavoro pulito come sempre non ha fatto nulla degradante non ha portato aiuto o comunque ha fatto qualcosa che potesse aiutare la squadra diciamo ad aumentare il vantaggio che aveva però ha dato una mano a contenerlo questo questo vantaggio e quindi un 6 poi esce perché a quanto pare si rifà un po' male Enzaki lo richiama per questo mettendo dentro parolo parolo però che prende 5 parolo abbiamo visto che non è un giocatore d'aria abbiamo rischiato fortemente di avere un ricore contro parolo ragazzi io lo dico è ammirevole come ragazzo l'impegno e la dedizione alla maglia alla causa va benissimo però non c'è più non c'è più il gioco però quest'anno soprattutto quest'anno lo vedo proprio in una fase di declino dove non riesce a dovunque lo metti sta facendo male quindi mettetelo nel dove sa fare meglio e basta perché altrimenti veramente mi piange il cuore vederlo così è come vedere un cagnolino che sta proprio ormai ormai alla fine della vita e quello devi stare a vedere agonizzante cioè o lo finisci e lo abbatti o altrimenti mettete parolo cortesemente dove può esprimere ancora qualcosa perché altrimenti così non lo posso vedere AKPAK PRO 5.5 5.5 però non tanto per la sua vera prestazione in quanto come detto anche nel video del dopogara secondo me AKPAK PRO non ha una fetta di campo ben precisa dove stare da controllare l'ho visto andare troppo avanti indietro destra sinistra il che potrebbe essere se tatticamente studiata la cosa anche una mossa vincente avere un giocatore che non ha un ruolo fisso il problema è che in questo momento i compagni non sanno dove trovarlo e quindi sta fuori da ogni linea e da ogni meccanismo risultando poi come nel primo tempo un giocatore che non tocca palla e questo suo utilizzo lo porta in questa gara a non essere sufficiente Pereira entra all'ultimo, gioca pochissimo e un senza voto prima partita, primo assaggio di campo, non ha espresso nulla, ha fatto un paio di passaggi ma nulla di che, quindi non lo giudico proprio e gli lascio un senza voto, è da rivedere Luis Alberto, anzi passo prima a Fares passo prima a Fares, Fares 6.5 così finiamo la fase del centro campo Fares 6.5 Fares 6.5 perché questa volta mi è piaciuto, ha contribuito abbastanza alle azioni anche l'azione del gol viene da una sua iniziativa di rovesciata il problema che a Fares ha ancora attualmente, soprattutto in questa attiva gli sono arrivati milioni di palloni deve affinare il cross, delle volte mi sembra che crossa senza guardare neanche dove sono i compagni crossa e basta, deve migliorare perché la velocità sta arrivando mi sembra che i contrasti e comunque la voglia di dare il suo contributo c'è deve però affinare il passaggio perché il passaggio finale è quello che a noi ci serve quindi comunque più che sufficiente lo so prova, 6.5 abbiamo a questo punto Luis Alberto, Luis Alberto 7.5 7.5 perché Luis Alberto ormai mi sembra proprio padrone e consapevole delle sue capacità ormai vede cose che altri secondo me non vedono spazi che neanche altri immaginano che riesce a far passare il pallone fa delle cose che a vederle sembrano talmente ovvie e semplici ma in realtà vi assicuro che secondo me non sono per nulla semplici e ovvie anche perché nessun altro le fa, se fossero così ovvie le vedremmo in altre partite con altri giocatori, invece sono cose che sono pennellate di quello che è un mago, un artista vero del calcio quindi una crescita importante che sta rendendo importante la Lazio su delle mie partite un contributo fondamentale che non so come può essere sostituito speriamo che il Pereira cresca velocemente perché sta diventando l'uomo chiave già lo era ma adesso fondamentalmente una Lazio senza Luis Alberto suppongo è una Lazio senza fantasia senza quella imprevedibilità che potrebbe renderla facilmente gestibile dagli avversari e controllabile ovviamente dagli avversari quindi un 7,5 perché a parte il gol di rabbia così se l'è meritato tutto ma ha contribuito alla grande, alla vittoria della Lazio e a portare avanti questa Lazio Correa, Correa 6, ha fatto una prestazione sufficiente mi è sembrato ormai smaltita la trasferta e i 4000 metri dell'ultima partita con l'Argentina ci ha messo un paio di settimane però mi sembra rientrato molto più sul pezzo il problema è che il contributo è sufficiente ma nulla di più quindi per il momento 6 sperando che anche lui vada in crescita nelle prossime partite immobile 6,5 perché ha fatto gol, ha partecipato molto alle azioni però è stato meno preciso e meno brillante del solito sicuramente un contributo importante ma più che sufficiente ovviamente per la vittoria però ci si aspetta sempre qualcosa in più comunque il 6,5 per me è dovuto insomma non penso si possa dare di meno questa volta immobile anche perché sono stato abbastanza cattivo nelle altre pagelle quindi questa volta sono contento di potergli dare almeno un 6,5 andiamo a Inzaki, Inzaki 6,5 più che sufficiente perché ha messo una formazione buona in campo non si è inventato nulla fortunatamente ha fatto i cambi quando andavano fatti a quanto pare quindi chi stava male è stato tolto dal campo mi sembra che ha fatto il suo lavoro pulito ed anzi diciamo ha fatto anche quel qualcosa in più nel momento in cui si è reso conto che alcuni giocatori stavano male anche richiamando proprio chi aveva appena fatto entrare insomma quindi per me questa è una prestazione da 6,5 anche con lui ero stato abbastanza cattivo nelle altre volte quindi contento che Inzaki stia portando avanti un discorso molto più semplice ovvero mettere i giocatori al loro posto bene queste erano le pagelle non vado avanti per non fare un video troppo lungo come al solito vi chiedo solamente se siete d'accordo o in disaccordo con questi voti qualora foste in disaccordo commentate qui sotto fatemi sapere chi e quale voto secondo voi è sbagliato per quale giocatore e magari posso rivedere con voi il giudizio esserne d'accordo o meno e ridirvi la mia con questo vi chiudo ci vedremo presto col prossimo video spero ma credo sì di riuscire a vedere la Roma quindi questa volta mi vedo Roma e Milan anche perché sono due squadre di cui non ho mai fatto il video quindi mi vedrò Roma e Milan anche perché è una partita sicuramente molto interessante per il momento vi saluto olive dolci al prossimo video